Lo sapevate che Yuji Hirayama ha cominciato ad arrampicare a 15 anni nel 1984 e soltanto nell'86 ha raggiunto il livello di 8B e lo sapevate che nel 2004 ha realizzato il primo 8C a vista della storia una via chiamata White Zombie quando solo pochi mesi prima il forte Kilian Fischuber aveva centrato il primo 8C in stile Flash però chiudendo Daiichi la prestazione di Yuji fu soggetta ad alcune critiche così come non mancano mai per quello che mi riguarda penso che per raggiungere certi risultati soprattutto in un momento storico diverso da quello che conosciamo oggi devi essere soltanto una fottutissima macchina da guerra seguitemi per altre curiosità